cazzo ok guardia però io voglio troppo un po' come tavolo si chiama sto tipo nuovo raga voglio il tipo nuovo come si chiama lì diana modiglia spogliati quello che non è molto il mondo lo che sfonda i muri la vera o la città poco riusciti il po' di svegliare giuro coltivo da mamma un po' l'uomo ma non c'è nulla merda non posso passare e' un tema che non è un'altra domanda con me che è mai più malato il mio ora la vendita il suo carriamo ragazzo a destraggio il cap cammina ma io non ho già stato posto dov'è neccola scottato trovo a dire a sputtare se lo stavano sputtare c'è una cosa tagliamo pace bandit twitch e buco i bandit per loro non ha rotto nessun merito un attimo solo questi dovete vingato qua quando siamo io dai ovvio da che la capriccio dove voglio dire assisto io ho sbagliato mi trovo sporco si 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 arrivo a me vendita attaccano hanno un cappuccino senza farmi vedere senza farmi vedere vai 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 no 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 bandit di merda mi ha visto è l'ultimo ok morta frost tanti frost e tanti campi 8 sdata a destra ragazzi lì c'è l'alice morta tu c'è davanti a disegna fanno chi fa ma tra dieci piano b piante fa un culo ragazzo ma era cadavano Damai damai damai! Tu non lo devi sparare! Sì! Che scasso! Shhh! No! Guardate ragazzi guardate! Shhh! Ditti tu! Ditti! 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 Basta! Stai! 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 Sì! No! Iieger, non mi distrugge un drone! Vado a fare i bandits se riesco! M****! 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 Ce n***! M****! Nooo! M****! vado da noi siamo si vinte qua a capirlo anche due dopo il doc anche due sono belli l'alberto dove sei ma il cittadino 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 il mirano e mira rispettare il mondo che non c'è mai tempo raga un insieme le tg balla il bar è morto rega francia il tuo mira dietro si è rotto aiuto l'arico perciò tutto ma lo spaccato già che sulle tasche sei ragazzo creato mi è più adeguato bella questa stai lista i miei sensibilità giudice aspetta io perché era vicino non ho mai fatto attraverso non fai ciò è un misto ma non ci vedo con me pizzo questo d ma non vado visto solamente sotto 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 no non sotto dietro di noi a tutti niente ma visto io regalo abito domani ci siete che giocare da domani cittima la torna di vengo non c'è un classico c'era potete mangiare il caricatore aspetta ma che mi stavo grattando il naso un ucciso ragazzo tanto mi gratta il naso da succedo qualcuno ragazzo aiuto no pulso poca vita pulso ad acqua sempre la rispona sotto ragazzo chiara fisi di uno chiesa i tex si dice che questo girando qua la sportive e mia 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 scusate non ho spaccato il drone oh 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 non voglio essere il cuore di giugno in questo momento si si raga doc da me ok ok scusate se se si se 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 C'è un posto di... No! Va bene, va bene! 20 kill! 20! SEEEEE! 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 Ah, vabbè? C'è un gioco! C'è un gioco di gioco? Sì... vabbè... Raga, quanto vuole essere cariato? Mi... Vara, io sono 20 ore, va... Sì! c'è ben giocano tutti i verifoggi per me ora no, più che il di franci non da piangere io che l'assist ho due FST non da piangere non da piangere non da piangere non da piangere no raga pacchetto con 26 non l'ho preso non da piangere